Allora carissimi amici e amiche, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del ciclo di Catechesi sul peccato originale. Siamo analizzando adesso a questo punto del nostro percorso gli scritti di Maria Valtorta che come sapete è un po' ciò verso cui tendeva il nostro percorso. La volta scorsa abbiamo cominciato una bella lettura, oggi certamente proseguiremo con essa andando avanti nel nostro itinerario. Ci siamo fermati la volta scorsa al brano dell'8 marzo del 1944 dove c'era Maria Santissima che stava dando la sua lettura di quello che era stato il peccato originale. Un passaggio molto importante dopo il quale ci siamo fermati fu quello in cui il diavolo cominciò a provocare Eva attraverso la tentazione del fargli scoprire il segreto della generazione. Ripeto le cose che gli disse il diavolo così ci ricolleghiamo e riprendiamo da qui. Tu credi che qui sia del male, dinanzi all'albero, ma no. Dio te l'ha detto perché vi vuole tenere schiavi del suo potere. Credete di essere re? No, non siete re. Non siete neppure liberi come lo era fiera. Ad essa è concesso di amarsi di amore vero, non a voi. Ad essa è concesso di essere creatrice come Dio. Essa genererà figli e vedrà crescere a suo piacere la famiglia. Non voi. A voi è negata questa gioia. A che prova dunque farvi uomo e donna se dovete vivere in tale maniera? Siate dei. Non sapete quale gioia è l'essere due in una carne sola che ne crea una terza e molte più terze? Non credete alle promesse di Dio di avere gioia di posterità vedendo i figli crearsi nuove famiglie lasciando per esse padre e madre? Vi ha dato una larva di vita. La vita vera è conoscere le leggi della vita. Allora sarete simili a dei e potrete dire a Dio siamo tuoi uguali. Attenzione, questo è un passaggio fondamentale. Mi permetto di tornare indietro e di ricordare, specialmente a chi ha seguito tutto il ciclo di catechesi, quello che i padri della Chiesa dicevano quasi tutti. Cioè che lo stato originale pensato per l'uomo era la verginità. E dice se era la verginità come sarebbero nati gli uomini? Non si sa. C'era un qualche modo misterioso ma differente. Ora, gli scritti di Maria Valtorta che affermano chiaramente che la molla che ha mosso Eva e coinvolgendo anche Adamo a commettere il peccato originale inteso come il primo atto sessuale è stato l'essere loro stessi come gli animali protagonisti del processo della procreazione. Perché come vedremo i padri dicevano c'era un altro modo misterioso per la generazione che noi non conosciamo. Ed è esattamente quello che tra poco vedremo, quello che Dio disse, quello che Gesù rivela a Maria Valtorta. Quindi la molla che nel testo del libro della Genesi c'è non morirete affatto, anzi Dio sa che se ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi perché diventereste come Dio, diventare come Dio, che significa diventare come Dio? Cosa fa Dio? Di grande. Dio crea. Una delle caratteristiche tipiche dell'Altissimo che fa solo lui è creare. Capite che procreare non è creare, però insomma qualche cosa gli assomiglia, no? O no? I cromosomi, e questo lo sappiamo anche noi, insomma, no? I cromosomi di un bambino, di un membro della razza umana, sono 23-23. La parte corporea dell'uomo, se tu introduci questo tipo di riproduzione anche nell'essere umano, è la parte corporea, l'anima la crea Dio, ma la parte corporea, un uomo e una donna possono dire abbiamo fatta noi, o no? Capiamo, no? Quindi questo è un passaggio fondamentale, attenzione qui sta parlando la Madonna, no? La situazione è continuata, attenzione, quindi questo significa, attenzione a una cosa molto molto importante, no? Cioè il peccato originale è terminato nel primo atto sessuale, ma non è stato, come dire, principalmente un peccato di sesso. Perché la molla, cioè è stata la superbia, cioè l'andare a conoscere ciò che Dio non voleva che si conoscesse, quindi assecondando questo desiderio e, attenzione, andando per questo a trasgredire un ordine dato da Dio, cioè non violate questo segreto, il segreto della vita, come vedremo. Dopo, quindi ecco tutta quanta la, come dire, il raggiro, l'inganno, la circonvenzione operata dal serpente, gli ha fatto vedere gli animali, quello che facevano, guarda questi, guarda, guarda come avviene la procreazione dei mammiferi, guarda bene, bello, no? Voi niente, voi questo non ce l'avete, perché Dio ci ha riservato uno strano sistema, cioè ti ha detto che diventerete madre, ma quando mai? Ecco, e la Madonna concludeva, poi continuiamo, la seduzione è continuata perché non vi fu volontà di spezzarla, ma, anzi, volontà di continuarla e di conoscere ciò che non era dell'uomo. Ecco che l'albero proibito diviene alla razza realmente mortale, perché dalle sue rame pende l'amaro sapere che viene da Satana. E la donna diviene femmina, attenzione, e con lievito della conoscenza satanica in cuore va a corrompere Adamo. Credo che sia abbastanza esplicito, no? Perché tra l'altro, oltre al problema della procreazione, quindi quando Eva, attenzione, ricordiamo anche questa cosa, perché premetto che, dato che mi continuano ad arrivare mail, commenti ai video, dove in continuazione mi continuano a dire è la genesi biblica di Don Guido Bortoluzzi, è la genesi biblica di Don Guido Bortoluzzi, è la genesi biblica di Don Guido Bortoluzzi, quindi, allora, la genesi biblica di Don Guido Bortoluzzi, che qualcuno pensa che è in continuità con gli scritti di Maria Valtorta, non lo è affatto, come vedremo, e presenta tantissimi elementi di criticità che, dopo che presenteremo Maria Valtorta, ci dedicherò una puntata, perché pare che un sacco di gente vada dietro a queste cose. Io sono in imbarazzo, perché vengono da un confratello sacerdote, nei confronti dei quali io ho tutta quanta la venerazione e il rispetto che ho verso tutti quanti i miei confratelli e che si deve avere verso i sacerdoti, per cui mi dispiace dover prendere le distanze dalle cose che lui ha scritto, però, quanto pare, lui stesso, insomma, ogni tanto faceva qualche esorcismo, perché, insomma, era... Cioè, allora, si sappia che, cioè, tanto per cominciare a premetterlo, poi lo amplificherò, quel tipo di rivelazione, per esempio, cioè, un concetto fondamentale che è la responsabilità primaria di Eva nel peccato originale. Cioè, il peccato originale ha rovinato il genere umano perché è stato coinvolto Adamo, perché Adamo era il capostipite dell'umanità. Eh, ma con lei che è stata sedotta e con lei che è diventata la seduttrice, è stata Eva. Vedremo che, negli scritti di Don Guido Bortoluzzi, Eva, intesa cosa, non è la compagna di Adamo, è una scimmiona, è un ancestre, quindi, cioè, c'è completamente un'altra prospettiva che, a mio avviso, va anche fuori del senso letterale della rivelazione pubblica, cioè, del libro della Genesi, dove certamente ci sono alcuni aspetti simbolici, però non si può, come dire, simboleggiare troppo fino a far dire un'altra cosa rispetto a quello che dice il testo della Sacra Scrittura. Diventa un'operazione veramente estrema, veramente ardita, pericolosa. Vabbè, comunque, poi ne riparleremo. Quindi, però, si tenga presente che la donna si corrompe, quindi, perché non c'era soltanto il discorso della procreazione, Satana gli ha fatto anche conoscere il piacere legato al compimento di quell'attice. Quindi, ha capito che cosa ha dato da privato il nostro Signore? Da privato, uno, di creare la vita e due, di farlo nel modo stupendo e bellissimo e godurioso, non so come, e dilettevole, con cui si fa bella roba, no? E aveva che ha dato letto e dice, mazza, è vero, dice, fa mandato Adamo, andiamo di corsa, è andato e va a corrompere Adamo, c'è scritto qui. Avvinita così la carne, corrotto il morale e degradato lo spirito con obbio del dolore e la morte dello spirito privato della grazia e la ferita di Eva generò la sofferenza che non si placherà finché non sarà estinta l'ultima coppia sulla terra. Vedremo anche, ci sono altri scritti che dobbiamo vedere prima di terminare Maria Valtorta, che la condanna più pesante post peccato originale pesa sulla donna. Se guardiamo anche il corso della storia, insomma, quello che le donne hanno vissuto, insomma, è abbastanza pesantuccio. Come mai? Punto interrogativo. Maria riprende e a questo punto spiega, cioè, allora, un'altra considerazione preventiva. Adesso qui Maria spiegherà come lei ha fatto al contrario il percorso di Eva. Allora, amici, quando sarà fatto il dogma della corredenzione, perché per quanto mi riguarda sarà fatto, d'accordo, non adesso, ma sarà fatto, io non ho nessunissimo dubbio, ma sicuramente qualunque Papa farà il dogma della corredenzione, le cose che adesso la Madonna dice può prendere anche gli iscritti di Maria Valtorta e buttarli al secchio, cosa che non sarà, perché io sono convintissimo che questi iscritti, così come quelli della serva di Dio Lisa Piccarreta, verrà il giorno in cui la Chiesa li farà propri, d'accordo, certamente distinguendoli dalla liberazione pubblica, ma gli darà sicuramente l'imprimatur. Io, sono mie convinzioni personali, quindi posso avere le convinzioni personali, credo di sì, no? Ecco, non ne voglio imporre a nessuno, ma sono mie convinzioni personali, ma anche se non dovesse tenerne conto, la corredenzione non può prescindere dal fatto che Eva sia stato quello che la Sacra Scrittura dice che sia e che quindi i peccati che ha fatto lei in primis in cui ha coinvolto Adamo dovevano essere riparati da una donna come lei. negli scritti di Guido Bortoluzzi, Eva è una bambina, l'Eva biblica, è una bambina che non c'entra niente col peccato di Regina, proprio niente, anzi, è un angioletto, d'accordo, che non ha fatto assolutamente nulla. Io quando ho lessito queste cose dico ma non è possibile una cosa, perché i padri della Chiesa che abbiamo studiato sono praticamente unanimi nello stabilire un principio etologico fondamentale, cioè che c'è la coppia Adamo ed Eva che ha rovinato l'umanità e poi c'è la controcoppia del nuovo Adamo e della nuova Eva che sono Cristo e Maria. Ma se Eva non ha fatto niente la Madonna che corredentrice dovrebbe essere? Non serve a niente, non serve, perché se la colpa è solo da Adamo e il guai l'ha fatto soltanto lui non serve una corredentrice, serve Gesù Cristo e basta. Sarebbero felicissimi i nostri fratelli e sorelle protestanti ma non è così, non è affatto così, non è affatto così. Allora, riprendiamo quello che dice la Madonna così comprendiamo ancora meglio questo punto, no? Io ho percorso al ritroso la via dei due peccatori, ho ubbidito, in tutti i modi ho ubbidito, Dio mi aveva chiesto di essere vergine, ho ubbidito, amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne prima di conoscere Satana. Ripeto, amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne prima di conoscere Satana. Già qui la Madonna sta dicendo che Eva sarebbe dovuta rimanere vergine a vita. Padri della Chiesa, noi abbiamo avuto il bagaglio alle spalle, per questo che io ringrazio il Barontini perché il Barontini con l'opera che ha fatto, certo, lui è andato a cercare, non è che si è inventato niente, è andato però a cercare le fonti patristiche, ha dato il supporto teologico più grande che si potesse avere a tutto quello che vedremo rivelato dal Signore negli scritti di Maria Valtorta. Tutto. Rileggo il periodo. Amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne prima di conoscere Satana, Dio mi chiese di essere sposa. Ho ubbidito riportando il matrimonio a quel grado di purezza che era nel pensiero di Dio quando aveva creato i due primi. Convinta di essere destinata alla solitudine del matrimonio e allo sprezzo del prossimo per la mia sterilità santa, ora Dio mi chiedeva di essere madre. Ho ubbidito. Ho creduto che ciò fosse possibile e che quella parola venisse da Dio attenzione perché la pace si diffondeva in me nell'udirla. Allora pensiamo già alla scena dell'annunciazione, no? Questa è un'altra cosa su cui i commentatori ce ne sono quanti quanti ne vogliamo ci hanno fatto caso, no? Attenzione che la Madonna non è che ci avesse l'attestazione soprannaturale del fatto che quello era l'arcangelo Gabriere sentiamo che dice ho creduto che ciò fosse possibile e che quella parola venisse da Dio perché la pace si diffondeva a me nell'udirla cioè che significa? Significa che la Madonna ha fatto un discernimento questo che sta parlando è un angelo buono o è un angelo cattivo? cioè attenzione che questo risulta e questo vale anche per noi quante volte ho detto in tanti interventi vuoi sapere dove sta la volontà di Dio quando c'è qualche dubbio? Prova a pensare una soluzione al dubbio e vedi se immettendoti in quella soluzione che hai pensato senti una pace profonda nel cuore se questo è stai tranquillo che stai facendo la volontà di Dio e se questo non è la volontà di Dio stai tranquillo che non la stai facendo questo è un criterio universale di discernimento antichissimo ma attenzione quindi capiamo come già in questo la Madonna rovescia Eva perché Eva ha ascoltato un annuncio da chi? da Satana e gli ha creduto e proprio la dinamica della redenzione è stata realizzata come? attraverso un altro annuncio è andato stavolta non l'angelo cattivo ma l'angelo buono a fare un annuncio che aveva bisogno di essere creduto e di essere accolto proprio il contrario è questo essere creduto e essere accolto era una cosa talmente grande che era impossibile all'uomo ma possibile solo a Dio e chiaramente la Madonna cosa gli dice l'arcangelo Gabriele? ah concepirai eh? nulla è impossibile a Dio e lei risponde ecco l'ancella del Signore si faccia di me secondo la sua parola l'ancella l'ancella con lei che sta H24 al servizio dell'Altissimo H24 le ancelle l'ho già detto in un intervento recente proprio il 25 di marzo erano le schiave che stavano al servizio del padrone 24 ore su 24 questa è la Madonna allora non ho pensato riprendo la citazione me lo sono meritato non mi sono detta ora il mondo mi ammilerà perché sono simile a Dio creando la carne di Dio no mi sono annichilita nella mia umiltà la gioia mi è sgorgata dal cuore come uno stello di rosa fiorita ma si ornò subito di alcune spine e fu stretta nel viluppo del dolore come quei rami che sono avvolti dai viluppi dei convolvoli ecco perché qui c'è una parentesi quadra come dice il più sopra Maria Santissima il mio cuore si aprì come un giglio serrato e se ne fuse quel sangue che fu zolla al germe del Signore fu il dolore a ferirle il cuore e con quel sangue effuso lo Spirito Santo formò l'embrione di Gesù come verrà spiegato in un'altra parte dell'opera il dolore del dolore dello sposo ecco la strettoia del mio gioire il dolore del dolore del mio figlio ecco lo spine del mio gioire attenzione Eva volle il godimento il trionfo la libertà volle godere diciamolo proprio vuole il trionfo io mi sento il Padre Eterno vuole la libertà mi sgancio dalla dipendenza da Dio io ci penso io a procreare come dove quando voglio pensiamo sotto questo punto di vista pensiamo il sacrificio per esempio che fa una coppia ad essere aperta alla vita ad essere aperta alla vita senza condizione cosa dice al Signore non decido io decidi tu non me la prendo io la libertà di dire ne faccio due ne faccio tre li distanzio no rinuncio decidi tu non me ne vuoi dare nessuno fiat me ne vuoi dare uno fiat me ne vuoi dare due fiat tre fiat cinque fiat dieci fiat pensiamo anche una coppia che entra in questa dinamica perché adesso non si può entrare in altre dinamiche ovviamente quanto quale cosa gradita fa al Signore dinanzi al Signore perché sta facendo il contrario di quello che ha fatto Eva questo è sicuro questo qui sicuro prosegue la Madonna rinuncia alla mia vita tranquilla alla stima dello sposo alla libertà mia propria questo ha fatto la Madonna col suo fiat che rovescia Eva non mi serbai nulla vedete divenni l'ancella di Dio l'ancella in greco il termine è dule che significa schiava ma in latino è ancilla San Girolamo Benedetto che ha tradotto bene perché la serva come ancora traduce la cei è molto distante ma anche schiava è poco perché l'ancella è più ancora che schiava sembra quasi vedersi qua se mi posso insomma azzardare un paragone sapete che San Luigi Maria Monforte quando parla della devozione alla Madonna parla dei servi e lui dice io vi insegno la santa schiavitù d'amore ma poi è arrivato San Massimiliano Maria Colbe e ha detto la schiavitù è ancora poco è ancora poco bisogna andare oltre perché lo schiavo si potrebbe pure ribellare al padrone come fece Spartaco nella rivolta degli schiavi facciamo uno step ulteriore diventiamo cose nelle mani di Maria cose non mi voglio muovere più no? è un po' più che schiavo un po' come Ancella è più che schiava non mi servai nulla pensiamo anche adesso mettiamo insieme un pochino di cose Maria Valtorta Massimiliano Colbe Luigi Monforte e Luisa Piccarretta pensiamo a per chi conosce la divina volontà a ricollocare queste cose dentro le rivelazioni sulla divina volontà non è tanto difficile tanta roba non mi servai nulla no? quante volte durante le meditazioni dico ragazzi qui se uno vuole fare questo salto a Dio gli deve dare tutto cioè deve essere disposto a qualunque cosa questa è la vita della Madonna divenni l'ancella di Dio nella carne nel morale nello spirito affidandomi a lui non solo affidarsi l'affidamento l'affidamento è una proprio delle dimensioni costitutive del vivere nella volontà divina affidarsi come fa una famiglia a aprirsi abbiamo fatto l'esempio illimitatamente alla vita se si fida del Signore se non lo farà mai se si guarda se stessa ma non ce la facciamo è impossibile ma nulla è impossibile a Dio disse l'Arcangelo alla Madonna affidandomi a lui non solo per il virginale concepimento che l'ha fatto nulla è impossibile a Dio ma per la difesa del mio onore chi lo difende l'onore della Madonna chi l'avrebbe difeso per la consolazione dello sposo chi lo va a consolare a San Giuseppe che se la vedrà incinta e lei non le può dire niente perché ti immagini se poteva cioè sapete che alcune cose di noi stessi noi non possiamo dirle devono dirle altri di noi cioè come fa una Madonna a presentarsi davanti a San Giuseppe lei che è così umile e dirle sai Giuseppe mi è venuto l'Arcangelo Gabriele sai com'è che vuoi fare e mi è venuto a dire che io porto Dio nel grembo cioè non lo può dire lei perché se lo dicesse cioè inevitabilmente anche se non vuole mancherebbe all'umiltà alcune cose non si possono dire altri possono dirle di noi mai noi di noi stessi ma se non glielo dice lei a San Giuseppe la verità chi gliela dice deve affidarsi deve perché la sa soltanto lei vuol dire che Dio trova a inventarsi qualche cosa come poi di fatto se ne ha inventato per dire qualcosa a San Giuseppe ma questo è un atto d'affidamento la consolazione dello sposo il mezzo con cui portare egli pure alla sublimazione del coniugio attenzione di modo da fare di noi coloro che rendono all'uomo e alla donna apriamo bene le orecchie la dignità perduta la dignità perduta quando da chi e perché qual è la dignità perduta essere sposi vergini questa è la dignità perduta come era Natame e Deva prima del peccato originale come sarebbero dovuti rimanere solo che lei dice a Giuseppe io va bene ma Giuseppe lei ancora non lo conosceva bene no lo aveva appena appena intravisto quindi San Giuseppe era comunque un santo fuori del comune ma lei ancora non ci aveva parlato ancora non aveva non aveva ancora avuto una conoscenza approfondita no si è dovuta fidare e affidare e l'ha fatto alla grande come sempre la madonna non 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 fallisce la dignità perduta ridare all'uomo e alla donna la dignità perduta ripensiamo io ho sempre detto io faccio i cicli di di catechesi e questo era indispensabile per capire bene questo questo argomento perché tutte le volte in cui ho trattato a un passant in una catechesi soltanto dopo quando inevitabilmente era assolutamente incompleta impossibile in un'ora cioè focalizzare bene tanti aspetti no allora c'è la volontà del Signore per me per lo sposo per la mia creatura dissi sì per tutti e tre certa che Dio non avrebbe mentito alla sua promessa di soccorrermi nel mio dolore di sposa che si vede giudicata colpevole e di madre che si vede generare per dare il figlio al dolore noi pensiamo anche a quest'altra cosa cioè voi capite la Madonna va a fare l'atto più eroico del mondo è la persona più innocente del mondo e è consapevole che facendo questa cosa sarà giudicata colpevole lei che è innocente guardate che è una cosa è una cosa grossa è colpevole di una cosa orribile colpevole di adulterio attenzione sì ho detto sì e basta perché con Dio si fa così impariamo dalla Madonna perché la vera devozione diceva Padre Pio consiste nell'imitazione a Dio si dice sì e basta non si dice sì ma sì forse sì però sì a queste condizioni no a Dio si dice sì e basta uno dei significati del famoso logion di Gesù il vostro parlare sia sì sì no no questo logion significa tante cose ma una è questa sì punto e basta San Paolo dice in Gesù non ci fu il sì e il no ma in lui c'è stato solo il sì anche in Gesù sì e basta e quel sì attenzione ha annullato il no di Eva al comando di Dio qual era il comando di Dio? non mangiare il frutto proibito non violare il segreto della vita non introdurre la riproduzione sessuata nel genere umano degli uomini vedete quel sì ha annullato il no di Eva ma se Eva non è esistita non nel senso in cui la presenta la Genesi e non ha fatto niente nel peccato originale ma mi spiegate la Madonna quale no dovrebbe annullare e come si farà a definirla corredentrice certamente per grazia non perché Dio non avesse bisogno ma per convenienza ma così sarà se non è l'alter ego l'opposto con lei che ha annullato la disobbedienza di Eva quel sì ha annullato il no di Eva al comando di Dio e sentite cosa dice la Madonna qui c'è il suo cuore c'è la sua quintessenza questa è Maria ecco perché io non ho nessunissimo dubbio su questi scritti qua nessuno perché queste parole non possono essere uscite da nessun'altra che dà la sua bocca sentitele adesso sì signore come tu vuoi conoscerò quello che tu vuoi vivrò come tu vuoi gioirò se tu vuoi soffrirò per quel che tu vuoi sì sempre sì mio signore dal momento in cui il tuo raggio mi fe madre al momento in cui mi chiamasti a te sì sempre sì ricordiamocene queste parole sì sempre sì tutte le voci della carne tutte le passioni del morale sotto il peso del mio perpetuo sì cioè dicendo io posso pure schiattà ma a te ti dirò ti ho detto e sempre ti dirò solo sì sempre sì la principessa del regno della divina volontà non può fare altro che questo l'imperatrice anzi del regno della divina volontà e sopra come un piedistallo di diamante il mio spirito a cui mancano le ali per volare a te ma che è signore di tutto l'io domato e servo tuo l'io domato e servo tuo anche noi dobbiamo domare l'io e renderlo gli piaccia o non gli piaccia servo dell'altissimo è un compito che abbiamo se lo vogliamo affrontare certamente servo nella gioia servo nel dolore ma sentite qui ma sorridi oddio la massima aspirazione di Maria fare contento l'altissimo e sii felice e guardate che mentre Dio sentiva queste cose mo la sparo un sussulto ce l'avrà avuto perché è stato veramente felice di sentirle quelle cose senza nessun dubbio ora come lui sia e come abbia reggito ma io sono un po' Romo cioè non ho la più ballida idea ma che sicuramente lui sia stato contento io non ho nessunissimo dubbio sii felice la colpa è vinta è levata è distrutta essa giace sotto al mio tallone qui la Madonna sta dicendo la profezia nel protovangelo nel protovangelo porrò in nemicizia tra te la donna la tua stirpe e la sua stirpe altro che Eva che era una povera bambina cioè c'è 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 un'inimicizia tra la donna e il serpente che sarebbe stata consumata come con la rivalza della donna sul serpente la Madonna e tutte quante le donne devono fargli un monumento perché la salvezza della donna il riscatto della donna la redenzione della donna la possibilità anche per la donna attuale di essere altro da Eva è in Maria la colpa giace sotto al mio tallone è lavata nel mio pianto distrutta dalla mia ubbidienza che è l'alter ego della disubbidienza di Eva dal mio sieno nascerà l'albero nuovo che porterà il frutto che conoscerà tutto il male per averlo patito in sé e darà tutto il bene a questo potranno venire gli uomini ecco un'altra ecco un'altra delle sue io un'altra di quelle proprie di Maria perché quando si impara a conoscere un po' Maria questa è proprio un'altra delle sue sentite che dice adesso a questo potranno venire tutti quanti gli uomini ed io sarò felice se ne coglieranno di questo frutto anche senza pensare che esso nasce da me questa è proprio è un'altra carta di identità della Madonna vedete anche noi no? se noi facciamo qualcosa di buono ah noi siamo tutti contenti ah questo 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 l'ha fatto Don Leonardo questo l'ha detto Don Leonardo ah ma quando mai qui bisogna scomparire cioè chi deve chi deve stare al centro deve essere il nostro signore purché l'uomo si salvi e Dio sia amato ma sai che a me che a me che me ne importa che alla Madonna non gliene importa niente ma al signore si alla Madonna no ma al signore si perché il signore vuole che la Madonna sia glorificata e che gli siano riconosciute le cose che ha fatto ma se dipendesse da lei non gliene importa niente l'uomo si salva Dio è amato è successo anche attraverso il mio sì ma io non fa niente ma non fa niente per quanto riguarda lei Dio non è stato d'accordo su questa cosa qui però vabbè comunque noi dobbiamo sempre imitare il suo spirito cioè nelle nostre piccole o grandi cose per vivere veramente nella divina volontà il nostro io deve scomparire ma che cioè non ti dicono grazie ma devi non ti dicono grazie non sono grati anzi ti danno gli insulti dietro ma devi andare devi andare dal parroco suona le campane a festa va accende qualche cero in 30.000 chiese ringrazia Dio perché straboccante sarà la tua ricompensa in cielo si faccia della sua ancella quel che si fa della zolla su cui un albero sorge gradino per salire quindi purché l'uomo si salvi e Dio sia amato si faccia della sua ancella quel che si fa della zolla su cui un albero sorge gradino per salire ecco cari amici vi presento Maria Santissima perché questa proprio cioè per quanto mi riguarda ecco cioè conoscerla significa mettersi bene in testa queste cose e ritenerle nel nel cuore ora il brano prosegue sempre l'8 marzo riprende la parola Gesù fa una serie di considerazioni e e poi riprende riprende a spiegare no curvate la fronte adorate quindi ho saltato un pezzo e se dato che i tempi di e se dato che i tempi divengono maturi per la gran messa e tutto si deve conoscere prima che l'uomo cessi di essere tutto e delle profezie dopo Cristo e di quella avanti Cristo e del simbolismo biblico che ha inizio sin dalle prime parole della Genesi simbolismo biblico che ha inizio sin dalle prime parole della Genesi e se io vi istruisco su un punto sinore spiegato accogliete il dono e traetene frutto e non condanna non fate come giudei del mio tempo mortale che volero chiudere il cuore alle mie istruzioni e non potendomi eguagliare nel comprendere i misteri e la verità soprannaturale mi chiamavano ossesso e bestemmiatore questi scritti di Maria Valtorta hanno incontrato problemi perché il diavolo si è messo a fare il diavolo a quattro per quanto mi riguarda problemi stanno incontrando anche gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta perché il diavolo si mette a fare il diavolo a quattro io personalmente sono assolutamente convinto che la testimonianza e guardate che sono due italiane quindi dobbiamo ringraziare il Signore che abbiamo due grandi connazionali ma l'opera che hanno fatto queste due tra l'altro vissute contemporaneamente in contemporanea non lo so se si conoscevano l'uno con l'altro quindi c'è stato questo binario su cui ha agito la grazia di Dio io credo che sarà un patrimonio meraviglioso e la Chiesa rinnovata perché la Chiesa uscirà rinnovata da questo tempo di travaglio che stiamo vivendo statene certi d'accordo statene sicuri le cose cambieranno e cambieranno in meglio quindi è solo questione di tempo il cuore del Macro di Maria trionferà non ci sono non ci sono non ci sono possibilità che così non sia 100% questo accadrà e nella Chiesa rinnovata faccio il far oggi stasera stanno in vena di profezie Luisa Piccarrete e Maria Valtorta avranno un posto non indifferente non per quello che sono loro loro sono delle piccolissime come tutti serve inutili quindi tramiti però attraverso di loro il Signore ha fatto dei doni grandi alla Chiesa e quei doni devono essere riconosciuti certamente il contesto della Chiesa degli ultimi 60-70 anni non è certamente un contesto ideale mi si perdoni perché queste cose abbiano spazio e siano riconosciute ma non sarà sempre così non sarà sempre così non sarà sempre così allora riprendo perché qui arriviamo ad altri punti molto importanti ci abbiamo ancora un po' di tempo ho detto metaforica pianta dirò ora simbolica pianta forse capirete meglio il suo simbolo è chiaro dal come i due figli di Dio avrebbero agito rispetto ad essa si sarebbe compreso come era in loro la tendenza al bene o al male come acqua reggia che prova l'oro e bilancia d'orafo che ne pesa i carati quella pianta è divenuta una missione per il comando di Dio rispetto ad esso ha dato la misura della purezza del metallo di Adamo e di Eva l'albero della conoscenza del bene e del male no? questa è la simbolica pianta sento già la vostra obiezione ma non è stata soverchia la condanna e puerile il mezzusato per giungere a condannarli non è stato non è stato una disubbidienza attualmente in voi che siete gli eredi loro è meno grave che non fosse in essi voi siete redenti da me ma il veleno di Satana rimane sempre pronto a risorgere come certi morbi che non si annullano mai totalmente nel sangue tutti lo sappiamo questo da un momento all'altro ci possiamo impazzire e ridiventare grandi peccatori preghiamo come San Filippo Neri che questo non accada che ci tenga sempre le mani sulla testa noi ci mettiamo tutto l'impegno e una buona volontà ma non siamo al sicuro nessuno pensi di stare al sicuro come scrive San Paolo chi crede di stare in piedi faccia attenzione a non cadere no? essi invece i due progenitori i due progenitori erano possessori della grazia senza aver mai avuto sfioramento con la disgrazia perciò più forti più sorretti dalla grazia che generava innocenza e amore infinito era il dono che Dio aveva loro dato ben più grave perciò la loro caduta nonostante quel dono simbolico anche il frutto offerto e mangiato attenzione era il frutto di una esperienza non la mela voluta compiere per istigazione satanica contro il comando di Dio chiaro? allora Giù sta dicendo che quest'albero esisteva realmente era un albero ma il frutto era metaforico cioè perché il serpente stava stava appollaiato sull'albero ha detto non vi avvicinate lì già avvicinarsi significa aver trasgredito il comando di Dio già ti sei messo in quella condizione e lì ha trovato il diavolo solo che il frutto non era la mela mozzicata ora sarei tentato di mettere davanti allo schermo dell'iPhone che Apple ci ha fatto il logo provocatorio no? perché tutta sta roba che abbiamo in giro noi cerchiamo di farne un uso buono ma di per sé l'origine non è proprio tanto per la quale ecco ma non c'è nessuna mela ti pare che il nostro signore che va a succedere il finimondo col peccato originale perché uno ha dato un mozzicata a una mela cioè vi ricordate la favoletta del pomo no? ma chi ma era difficile crederci in tempi di ignoranza ma figuriamoci oggi no? veramente diventiamo ridicoli il frutto è un'esperienza voluta compiere voluta compiere esperienza voluta compiere per istigazione satanica contro il comando di Dio e adesso attenzione così che abbiamo anche alcune cose io non avevo interdetto agli uomini l'amore chi lo conosce si prenda il libro di tenera amata e veda come vivono l'amore tra i beati nel paradiso sentendo queste cose uno non si scandalizzerà quando leggerà le vite di alcuni santi pensa a Santa Margherita Maria la Coc o a Luisa Piccarreta che hanno avuto rapporti intimi con Gesù intimi comunicazione di amore molto molto fisico molto molto concreto niente di venereo niente di sessuale ma molto fisico io non avevo interdetto agli uomini l'amore dice Gesù volevo unicamente che si amassero senza malizia come io li amavo con la mia santità come io li amavo attenzione essi dovevano amarsi in santità di affetti attenzione al termine che nessuna libidine insozza cos'è che insozza la libido perché oggi un papa ha scritto Alessandro VII secoli fa che perfino un bacio profondo purtroppo se due persone non sono sposati è un problema ma perché perché noi adesso abbiamo la libidine che si accende è praticamente impossibile dare un bacio di quel genere in questa vita senza che uno abbia delle conseguenze io parlo da maschietto ma presumibilmente le femminucce mi daranno ragione d'accanto loro questo non c'era nello stato d'origine si potevano dare un bacio ad amideape innocenti ma sicuramente sì ma senza tutti gli abbracci che volevano tutte le carezze che volevano sarebbe stato un amore puro ma un amore ardente ma non libidinoso io non lo so quanti di noi sono in grado di rappresentarsi adesso io ci riesco abbastanza bene confesso insomma un amore ardente profondo senza libidine gli sposi dovrebbero imparare anche questa cosa qui per quanto possibile adesso quindi perché questo non può essere totalmente tagliata fuori perché altrimenti addio alla razza umana però al che tentativo insomma per ripristinare anche questa cosa qui non si deve dimenticare riprendo la lettura che la grazia è il lume e chi la possiede conosce ciò che è utile e buono a conoscere la piena di grazia conobbe tutto perché la sapienza la istruiva la sapienza che è grazia si seppe guidare santamente Eva conosceva perciò ciò che le era buono a conoscere non oltre perché è inutile conoscere ciò che non è buono attenzione con tutte quante le cretinate che vanno dicendo in giro da 30-40 anni a questa parte bisogna fare esperienze i ragazzini non li può mettere dentro una campana di vetre devono fare le loro esperienze ma quale esperienze devono fare che esperienze conoscere ciò che non è buono è inutile e dannoso quindi se qualcuno non lo conosce tanto meglio sarebbe come per dire no io devo consacrare la vita a Dio giusto però mi devo rendere conto che di che cos'è a che cosa rinuncio quindi prima conosco la vita sessuale e poi rinuncio perché se non la conosco che rinuncia faccio ma capite il discorso cioè tu perdi la virginità per offrirla ma che discorsi sono eppure questi sono molto più diffusi di quanto di quanto pensiamo Eva non ebbe fede nelle parole di Dio e non fu fedele nella sua promessa di obbedienza credette a Satana in Franze la promessa attenzione volle sapere il non buono lo amò senza rimorso rese l'amore che io avevo dato così santo una corrotta cosa una abilita cosa ragazzi questo a farlo è stata Eva poi Adamo gli è andato dietro ma chi l'ha fatto è stata Eva a me mi dispiace dirlo cioè ma questa è la verità questo è il racconto del libro della Genesi io voglio tanto bene alle donne la creatura per me preferita è una donna è la Madonna quindi è una donna però così è andata angelo decaduto Eva si rotolò nel fango e sullo strame perché così va definita tutta quanta quel monnezzaio che era ribidine mentre poteva correre felice tra i fiori del paradiso terrestre attenzione e vedersi fiorire intorno la prole così come una pianta si copre di fiori senza curvare la chioma nel pantano guarda che Gesù è un artista proprio ripeto vedersi fiorire intorno la prole così come una pianta si copre di fiori senza curvare la chioma nel pantano ricordiamo i padri della chiesa niente riproduzione sessuata secondo natura e qui ci dispiace sia per il secondo Sant'Agostino che per Sant'Ommaso d'Aquino che si sono sbagliati senza nessun dubbio ma i figli sarebbero fioriti e le madri sarebbero rimasti madri veramente come la Madonna come pianta che si copre di fiori senza curvare la chioma nel pantano senza doversi abrutire in quel modo per concepirli senza dover soffrire in quel modo per farli nascere Gesù prosegue non siate come i fanciulli stolti che io indico nel Vangelo i quali hanno udito cantare e si sono durati gli orecchi hanno udito suonare e non hanno ballato hanno udito piangere e hanno voluto ridere non siate gretti e non siate negatori accettate senza malizia e senza conciutaggine senza ironia e incredulità la luce e basta su ciò il Signore lo dice anche a noi cioè conoscere queste cose averle ricevute in rivelazione tu dici ah chi se ne importa ah poi tanti anni fa i libri della Madonna e i libri di Maria Altor sono stati messi all'indice poi c'è stata una pronuncia dell'allora cardinale Ratzinger che ha detto che queste cose che non c'è niente di buono pronuncia con tutto il rispetto per il cardinale Ratzinger evidentemente per carità di Dio ma dopo pronuncia che non impegna certamente l'infallibilità della Chiesa perché su queste cose così come anche i libri l'indice dei libri proibiti non era il dogma di fede divina e cattolica anche i libri di Santa Teresa Davida andarono a finire nell'indice dei libri proibiti quindi capite no è certo che uno nell'attuale condizione in cui si trova dice vabbè io non mi fido liberissimo però quando noi ascoltiamo allo stato attuale certamente noi dobbiamo dare a questi testi come dice la Chiesa fede umana ma il tuo cuore ti dice ti avverte senti se tu hai la mente sgombra da pregiudizi e preconcetti se questa è cosa che viene da Dio oppure no io l'ho percepito in maniera chiarissima leggendo tutta quanta l'opera e questo in particolare io quando non ci ho dormito la notte non ci ho dormito rimasi proprio fuoco ora dico ma mamma mia ma tu guarda un po' e poi vedremo quando tireremo fuori le conclusioni perché ci sarà l'ultima puntata dove probabilmente ci divertiremo perché dopo vedremo se questo è vero rivedremo rileggeremo tutta quanto una serie di questioni vedremo come tutti i tasselli vanno perfettamente incastrarsi tutte le cose che appaiono senza risposta o misteriose hanno un senso eccetera dentro questo orizzonte e per farvi capire di quanto dovete essere grati a colui che è morto per rialzarvi al cielo e per vincere la concupiscenza di Satana ecco perché il sesso è satanico attenzione il sesso SSS 666 è satanico ci vuole un sacramento per redimerlo e una retta ordinazione di esso perché sia lecito agli occhi del Signore non dimentichiamolo mai questo qui questo vale anche a prescindere dagli scritti di Maria Valtorta ce lo siamo già detti nella famosa puntata preparatoria in cui ho illustrato la dottrina della Chiesa sulla sessualità e sul matrimonio si vadano a vedere le catechesi precedenti ho voluto parlarvi in questo tempo di preparazione alla Pasqua guardate ne parlavo nel tempo di preparazione alla Pasqua quindi anche noi ci è capitato di sentire queste cose proprio in quaresima 2022 per chi ha ascoltato le dirette e per me che ho avuto il piacere di rileggerle per condividerle con voi in questo tempo di preparazione alla Pasqua di questo che è stato il primo anello della catena con cui il verbo del padre fu tratto alla morte l'agnello divino al macello ve ne ho voluto parlare perché ora il 90% fra voi è simile ad Eva intossicata dal fiato e dalla parola di Lucifero Eva intossicata dal fiato e dalla parola di Lucifero per cui si perdoni la polemica ancora non la scimmiona che non c'entra niente e che ibiri del genere umano a causa della lussuria di Adamo consumata e invece la bambina non fa niente che cosa fa niente Eva intossicata dal fiato e dalla parola di Lucifero e non vivete per amarvi sentite che bella questa espressione è amara ma per saziarvi di senso non vivete per il cielo ma per il fango non siete più creature dotate di anima e ragione ma cani senza anima e senza ragione parole fortissime ma queste dette nel 43 figuriamoci nel 2022 80 anni dopo l'anima l'avete uccisa e la ragione è depravata e sentite come conclude e oggi questo proprio da mettere in giro in verità vi dico che i bruti vi superano nella onestà dei loro amori a questo proprio sicuro i bruti si uniscono perdoniamo perdonatemi maschio con femmina per procreare e basta non per fare sesso gratuito e non con unioni non procreative di qualunque genere vogliamo fare un po' una rassegna di quante sono le unioni non di questo genere tra gli esseri umani e di come questa frase brutta di Gesù brutta nel senso forte amara è sua non è mia ma è vera o non è vera vi dico che i bruti vi superano nella onestà dei loro amori certamente non per tutti ci sono certamente anche oggi anime pure anime vergine coppie sante famiglie benedette da Dio eccetera per carità ci sono sempre una minoranza di superstiti diciamo così però per molti non pochi almeno ahimè tutto questo falso non è bene amici ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana per una nuova puntata di questo ciclo di Catechesi e un santo fine settimana che ha seguito la diretta la mia benedizione Dio vi benedica della Madonna sempre vi proteggo